È una grande eccellenza italiana ed è un'eccellenza che può mettere insieme solidarietà e innovazione, solidarietà e anche business. La vice ministra agli affari esteri Marina Sereni ha voluto vedere di persona quella realtà che aveva conosciuto a distanza durante la fiera Ecomondo. La rappresentante del governo stavolta ha toccato con mano quello che è l'impegno di Contarina in ambito di cooperazione internazionale. Durante l'incontro i vertici dell'azienda Dispresiano hanno illustrato alla vice ministra i progetti che vedono impegnata Contarina che da tempo assiste istituzioni nazionali ed estere che vogliono introdurre strategie e sistemi di gestione dei rifiuti. Le principali collaborazioni in atto si stanno sviluppando nell'isola Comore, in Africa, in Serbia e in America Latina. La vice ministra ha parlato di diplomazia ambientale che non si ferma, ha detto, al solo tema dei cambiamenti climatici ma anche all'economia circolare. E questo è un grande esempio di economia circolare che può essere, lo metto tra virgolette, esportato in paesi in via di sviluppo coinvolgendo le autorità locali, coinvolgendo ovviamente le comunità locali. La visita dell'onorevole Sereni è stata l'occasione anche per tracciare i prossimi passi che potranno vedere Governo e Contarini insieme in altri progetti di cooperazione. Per noi è un orgoglio, ha detto il presidente Baldin. Questo è un seguito nel quale noi contiamo per avere ulteriori prospettive su ragionamenti già fatti, su strade già aperte e su interessamenti già manifestati da parte, soprattutto da parte del mondo che a lei interessa e anche a noi è cara che è l'America Latina. A noi fa piacere, ci stiamo strutturando anche per dare risposte, per essere nella condizione di dare risposte puntuali, per valutare le situazioni dove ci vengono chiesti interventi.